Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera, i rumori moncamega, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti ragazzi, come va, come va, come va, come va, come va, come va, attenzione, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a te e a tutti, come stai, tutto normale, torni, giorni come stai, ci, ui, vola, mia, ui, inizi sibilini moncamega, ma perché in verità mi ero dimenticato di scegliere una canzone per il pre-live, no? E quindi ho preso la primissima canzone che avevo tra le ultime ascoltate su YouTube Non c'entrava niente con la live Era una pessima scelta ma ero troppo di fretta perché avevo avviato la live E dopo mi sono ricordato di mettere una canzone nel pre-live Quindi l'ho presa a caso Comunque Ragazzi Basta ragazzi, basta Dove sono le carte? Via Subito, attenzione Ok, quindi buonasera ragazzi Buonasera a tutti Buonasera a tutti No, questa sera niente pigiamone Ragazzi ho messo a posto camera Guarda Cioè no, ok, lì c'è casino Però guarda Eh 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 E qua ce n'è molto poche mutande Ce n'è poche Ce n'è poche E lì anche ce n'è comunque poche vestiti Ce n'è un po' ma Meno del solito Eh? Che roba Ma questa puntualità È dove siamo finiti Il mondo finirà E la polvere sulla schivania No, quella c'è Quella c'è sempre Quella si faccio così Sulla schivania Muoio proprio Mangio per mesi Menomale che ci sei Te che stasera Non ti dico Mi è entrato un virus E Kaspersky Non riesce a togliermelo E sto bestemmiando dentro Ma c'è la live Di Dindo Per fortuna Ma cos'è Kaspersky Che ti trolla Knuckles In che senso? Ma stai zitto mongolo È sparito tutto Non vengo in live Da uno mese circa Per impegni vari E finalmente Sono di nuovo qua E comunque Ricordate sempre che Per gli occhiali di legno Puoi andare da Sparviero Sparviero Gli occhiali Che vuoi Il prezzo è quello giusto Se è un fusto Se fai le letti Da noi E intanto Ho per sbaglio Stoppato l'od Buonasera Buonasera family Retti era morto per un po' Scomentato di tutto In cantizione Allora sì Da quello che ho letto Non ho vissuto questa cosa Perché stavo cenando Mi sembra Mi sembra sia caduto Mentre cenavo Comunque è crollato Google Prima Non andava più niente Ho visto gente usare i bim Mi sento triste e sola Quel rincoglio di Willy Non fa live Da una settimana E non insultarlo Mi porta all'esasperazione Giusto Mostrami le tue ascelle Per farmi sentire meglio Se lo fai Ti faccio parlare K È il massimo che posso fare Perché sotto Ho i segreti Quindi Why you always late CX Why you always late È bellissimo Quella canzone Comunque sì Bing Moncamega E D2C Usavano Bing Alcuni È sparito Google A moltissime persone Prima No no Non eri tua meta Era proprio a tutti Che non era Era proprio Crollato Google È crollato Google Con Yomegalul Però Ripeto Io stavo cenando Quindi non me ne sono accorto Però Sia quanto pare Non andava niente Sia extra yard Anche a voi Allora Quindi Ragazzi Ho tirato le carte Guardatele Vedete È questa la carta Che avete scelto È questa Mamma mia Che bravo che sono Comunque ho tirato le carte Vuol dire che È ora di mettere mano Alle Sparute Danzanti Quindi Allora Dobbiamo incominciare Con il recap Ragazzi Perché questa sera Abbiamo due giochi da fare Abbiamo due giochi da fare Tira le carte Guarda il veliero Guarda Oddio un veliero Per my fucking god Guarda Guarda che bello Doppio Doppio Triplo veliero Triplo veliero Quadruplo Madonna che girano tutte Guarda Lei come gira Minchia Quadruplo veliero Hai provocato il millennium Bug carmile Ma in verità Sì Ma in verità Sì Ho fatto un casino Ho fatto un casino Quindi Allora Comunque Quindi State per assista A un trucco di magia Adesso Adesso Farò cambiare Questa car Questa carta Diventerà un'altra Eh Posso anche farlo così Aspetta 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 Che onore Quadruplo veliero Crigasm Eh Hai visto Visto La magia Edz Edz Ma come ci riesce Pogchamp Come ha fatto Edz Lo so ragazzi Lo so Hai riuscito A cagare il bambino E hai finto Sì stavolta Sì stavolta Sì stavolta Ecco il motivo Del tuo ritardo Quello mentale Non lo so Hai per nulla No E la madonna Come ha fatto Pogchamp Edz Ieri sera Sono andato Poi in bagno Dopo la live Avevo Andata Ieri sera Avevo Un bisogno Di cagare Incredibile Però era tipo Poi Avevo un mal di stomaco Quindi era tipo Diarrea Praticamente Tipo Ho pisciato Nero dal culo E Ha fatto anche male Però almeno Ora sto bene Almeno ora sto bene Stesso Ieri c'avevo Un dolore Incredibile Sì lo sento Anch'io Quel suono Gutturale Tutto storto Nelle vite Allora Quindi Buonasera ragazzi Buonasera a tutti Buonasera a tutti Monca mega Ma cosa specifica Monca X Allora Io sapete che vi racconto le cose Ci concedi La minchione Mostrami I peli Muoviti Ci concedi La ci concedi La p-i-s-c-i-a-t-o-i-o A provoso di pisciatoio Poi io parlavo Pensavo anche una cosa Prima Però dopo Allora Quindi Tommy Buonasera a te e tutti Come stai Normale Tommy Spero anche voi stiate bene Buonasera Ti so come stai Susha Sushitaci Il potere del Sos Furbietto di sì Non ho portato Il potere del Sos Il potere della Sporsissi Al massimo Del Sos no Ma questa puntualità Dove siamo finiti Il mondo finirà No dai Sono arrivato in ritardo Di un minuto o due Come sempre Beh vai che ci sei te Questa sera Non ti è diventato Un video Nacols Ti auguro buona fortuna Davvero Ti auguro buona fortuna Divertiti con la live Ma Spero che tu riesca A torierti Questa menata Dalle balle Lo spero Susha Susha Sushitaci Minchia Sushitaci Ci ho fatto Perché lui ha scritto Sushitaci Con due C finali Tre C in tutto Quindi Per me è stato Tipo uno Sushitaci Allora ragazzi Questi per me No Questi Sono incredibili E ora Mamma mia È diversa Hai visto che era blu Guarda 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 Hai visto Questi sono trucchi Di prestigidi Di ribilizzazione E purtroppo Sono uno dei pochi Al mondo A saperli fare così bene È un'arte difficile Che si estende Nei ioni del tempo La prestigidi Di ribilizzazione E ci richiede anni di pratica Sa sparvi Che poado La cosa Richiede quindi anni di pratica Ragazzi Mi spiace Che voi non siate in grado Mi spiace Perché è molto È molto brutto È molto È molto brutto Però ecco Nel senso Un giorno Potrete Potrete imparare Guarda 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 È rosso Guarda È incredibile Comunque Basta ragazzi Basta 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 Attenzione al veliero Attenzione al veliero Con tre carte Incredibile Basta Allora Quindi No L'accento circonflesso No L'accento circonflesso L'accento circonflesso No Please Incredibile D2C Troppo talento D2C Allora Allora Quindi Allora Questa puntualità L'avevo letto Quindi Buona fortuna Col virus Stai zitto Ma comunque Non vengo in live da un mese Per impingare Finalmente Su un nuovo Quale Comunque Rivaldi Sì perché Più che Nel Infra D'Aspra Virus Elibon Bentornata 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 Un trick di magia Subito Per te Guarda 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 Il segno Degno Divento Jack Incredibile Va bene Basta Quindi Sarah Sarah Hai dimenticato La cicon Chiocciola Fals Sottolineatura Poi Non ti mostrerò Le ascelle Neanche i peli Così impari A sfammare Ste cagate Così impari Così impari Così impari Così impari Perché è veramente Incredibile Perché vedi Ora mi sta Fanno sopa Cavana Con il cicon Cidile Non si può Perché io sto Ciclando di leggere Quindi Reddit era morto Per un po' Era proprio Proprio morto Google Non era che era morto Reddit Era morto Proprio Google Comunque Grazie anche a te Lodo Sarah Mi sei L'avvoletto Quindi Elibon Sarah Lodo Knuckles Tommy Furbetto Gli avvoletti Tutti Questo ti è uscito Bene davvero Ogni tanto Uno che so fare Effettivamente Ma è stravigliante È mostruoso Hai per nulla Quindi ragazzi Quindi Sono triste Perché la mia amica Mi ha frinzonato Aia D229 È terribile Perché Ne so qualcosa Ricordate che io sono il re Delle frienze Lo sapete ragazzi Lo sapete Non c'è posto In cui io non sia stato Frinzonato Non c'è persone Che non mi abbia frinzonato Il mondo Quindi D229 Ti capisco Ti capisco Punta la prossima Punta la prossima Fregatene Tiralo fuori Punta la prossima Davvero No Parti di scherzi Punta la prossima Non pensaci troppo Annuncio di servizio Annuncio di servizio Se Andrea è in chat Si palesi PLS Fine comunicazione Potete lasciare I vostri voti Aspetta No arrivo 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 poi Oh my fucking god Si è riabbonata Per quattro mesi Dicendo ads Quindi Oh my fucking god Grazie mille Per i quattro mesi Gentilissima Grazie per il quarto mese Grazie per essere ancora qua Dopo i quattro mesi Grazie mille Grazie mille Grazie mille E ripeto D229 Come ti hanno anche scritto in chat E ti hanno messo I Fist Badman Sbattitene Pensa alla live adesso E domani Da domani mattina in poi Pensa alla prossima Donzella che addocchierai Se tu sei Il regno sono Gio Che ne Che ne so qualcosa Poi E scusami tanto Maratatatata Va bene Tommy Hai provocato i millennium bug Ma allora Si era pagato per tutti google Che onore quadrupo veliero E beh E beh Cioè se non è un onore Il quadrupo veliero Guarda Te lo faccio anche Doppio al contrario Simmetrico speculare Guarda Il veliero doppio al contrario Simmetrico speculare Incredibile Guarda Mamma mia Si apre il contrario Ho visto Incredibile Sei riuscito a cagare il bambino E finito Adesso Il motivo Il tuo ritardo Quello mentale non so Allora forse Non ho cagato Ieri ho cagato per Una settimana Non dovrò andarci Dopo quello che ho fatto Ieri sera Quindi va tutto bene Molto felicotero Di vederti questa sera Grazie forse Quindi per i viz Grazie Cicciovello Per i viz Susa un puttano Anche a te Ieri in bagno Loro ho raccontato Ci concedi La bicchia Mostrami peli Qualcuno sul braccio Te Poi Tommy Sforzissima Sparviero Grazie mille Tommy Quartus Nese Quella donazione Molto strana Di false Domi Mi Grazie per il follow Hai dimenticato La cicconcedilla Grazie Sara Per i viz Bim bum bam Annuncio il servizio Se Andrea In chat Ti sei palesi Va bene Andrea Palesati Se sei in chat Potete lasciare I vostri voti Sacrificali Per il re Cassa 12 Se tu sei re Io sono il dio Ed Recap Cerco di farlo anche Senza perdere troppo tempo Perché abbiamo da giocare A due giochi questa sera Modern Simulator E Leighton Ci concedilla Ci concedilla Ci concedilla Ci concedilla Scusate ma volevo che può Ma io vi uccido tutti Tommy Allora Tommy Grazie Leon Pt55 Per il follow Dunque Aspetta che qua C'è la barra in alto Bianca Tutta monchessata Ok Subito recap Che velocità Lull Allora Non prendete in giro Ieri hai promesso una cosa Ricordo È proprio per questo Che devo fare ricordo Perché c'è la tua cosa lunga Ieri hai promesso una cosa Ricordi Una cosa Una cosa Cos'è sta roba Cos'è sta roba Oh Interessanti però eh Interessanti Le ultime due Sono interessanti Le prime due Niente Luca Triunfo Sono meglio le ultime due Grazie per aver messo il No safe for work Grazie mille Ok Ultime due interessanti Le prime due Le Vedete questo vuol dire Che sono ancora vivo Ne siamo felici Rugdar Buonasera a tutti Sono uscito vivo Dall'operazione Oh Rugdar è stato operato Bene Mi sono molto rinquinito Ma sicuramente ci vedo Molto meglio di prima Lascio link con le foto Dei miei occhi Aspetta che Ma questo qua Magari metto una foto No safe for work Con tutta la cornea Che gli penzola Ma che ansia Ma che ansia Allora Intanto Allora Intanto Ansia Rugdar Ansissima Per Ancora Ansissima Per sempre Mamma mia Sì ma guarda La barba Cioè io Come faccio a pensare Agli occhi Se vedo questa cosa E penso che mi ci posso No Aggrappare Mentre Scusa Grande Berry Ma le sieve No Ripa i peperoni Se ne vanno via Sempre i migliori E salutava sepe Taccitua Non ci vedo una mazza Mi padre Sta a scrivere per me Seppiamo stasera Se sono ancora vivo Gli amici quelli stronzi Comunque Rugdar A parte gli scherzi A parte Aspetta Vediamo cosa è scritto Grazie mille A tutti il supporto Che mi avete dato Siete bellissimi Se mi volete proprio male Andate a cercare Qualche video su youtube Per vedere cosa mi hanno fatto agli occhi Vado a cercare Strabismus surgery No Non ci tengo A guardare A guardarlo Per l'operazione Grazie per i I cazzini Lì I K-Pride Perché comunque Fra me Rugdar Scorre del buon sangue Non solo quello Scorre La sensualità Della barba di Rugdar Supera addirittura Quella di Lu Che del futuro Crigasma 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 Eh sì è vero È vero Cioè Rugdar con quella barbetta Lì incredibile È qualcosa di inumano Quasi bene Ha degli occhi Da donna bellissimi K Senza barba E con una parrucca lunga Gli chiederei Di uscire K Ma che ansia Anche questa cosa Sara Però non so se mi ansi più te O l'operazione Grazie Lolo Grazie Sara Grazie Dido Per lo shout out A te Furbetto Per averci avvisato Per averci aggiornato Sono tutti Siamo Sono molto Siamo tutti contenti Anch'io appunto Sono molto contento Che sia andata Tutto bene Meno male Meno male Ma ti ansia di più La mia risata Che domande KK In effetti In effetti si In effetti si Fra te Che ridi così Rugdar con gli occhi Manchessati Sa E Cristina Che pensa che Rugdar Sia una bella ragazza Sono tutte cose molto strane Quando Dido non capisce Un Un enigma Subito È il cagatoio È il cagatoio Mi viene davvero Questa faccia Grazie ragazzi Per i cuori Intanto che avete Anche messo Al buon Rugdar Il cagatoio Ciao Ciao Sono qui per dirvi Una cosa molto importante Sono omosessuale Sì l'ho detto Sì l'ho detto a voi Alla mia family reale Ma mi manca Sì una persona La mia fidanzata Ok E dopo averti Averti risposto In questo modo Passiamo alle cose serie Kaiju Io ti consiglio di guardare Quando avete un po' di sveglianamento Allora Kaiju Tanto Top 10 Anime plot twist Sono confuso Perché Allora Praticamente Io Io sono sempre Ho sempre saputo Di essere Omosessuale Quindi non ho mai avuto Mi piace il nuovo nome Che mi hai dato Però non sono fatta Di farro Ci Non ho capito Kri Non ho capito Perché dovessi essere Fatta di farro Comunque Grazie per i vizi Kri Allora Kaiju Parlagliene Con molta calma Se è vero E non ci stai trollando Parlagliene Con molta calma In molto privato Diciamo così Accennale Che Devi parlare Di una cosa importante Così già lei Avrà Sempre se è vero E non ci stai trollando Così lei avrà Già in mente Che comunque Devi parlare Di una cosa importante E non le devi andare A parlare Di cagate O non devi fare Battute Ok Falle capire Che vuoi parlare Di una cosa importante Dille E poi Falle capire Se è tutto vero Io spero che questa cosa sia vera Di non essere preso in giro Ok Mi ha detto Kaiju Che è vero Faglielo capire Abbastanza In maniera diretta Ma Delicata Nel senso Non girarci troppo attorno Però comunque Non essere neanche vago Cioè Dille Chiaramente Vuoi parlare Di cose molto serie Importanti Della vostra relazione Falle capire Dille che non Può più andare avanti Lei una volta Ti chiederà Perché E dille Che ti sei accorto Dille che ti piace Il cazzo Tutto qua Cioè più Più Di più diretto Di così E anche più Anche più Come dire Più Delicato Di così Non c'è altro modo Perché qualunque Non vedo Altro modo In cui potresti dirlo Senza Senza ferirla Troppo Questo credo sia L'unico modo Più maturo Diretto E non Troppo Devastante Possibile Secondo me Questo Importante Che le fai capire Che stai parlando Seriamente Subito Comunque Trolla come tutto Dite Eh Non 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 so Quindi appunto Non ci girare attorno E Dille chiaramente Appunto Che non potete più stare insieme Una volta che lei Subito Lo farà subito Ti chiede perché Dille che hai capito Che Ti piace L'altra sponda Diciamo Dille così Tutto qua E Questo è il consiglio Che ti posso dare Non so che altro dire Ora Andrò avanti Poi facci sapere Com'è andata Se vuoi E Dì che ti piace Ecco forse Già così Vedi È un po' meno È un po' meno Ecco È un po' più Eh Da Botta Sulla testa Io cerchavo di farla Un po' più Delicata Poi Mi piace Ok Questo voletto KHD Tommy Così KHD Anche a te Ora Nella live di Oddio C'è C'è le 4 PTP Club Trap Ok Nella live di ieri Sapevamo Che tutti Sapevamo Tutti Che qualcuno Lo avrebbe fatto Il resto Sto Ma ci sta Benissimo Tra l'altro Ma ci sta Benissimo Ma è bellissimo Ma è bellissimo Ma ci sta Troppo bene Tra l'altro C'è una parola Epico Ma infatti E Club Trap Oppure Il Cielo 4 PTP Bellissimo Grazie mille Bellissimo Ho fatto troppo bene Aspetta che Me lo salvo Aspetta che Sta qua La salvo Ok Sta qua Davvero 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 Bella Grazie mille Notiamo Allegramente Che ci sono Infinite Bizzate E dici Il mio nome Almeno 3 volte In tutto Il video Amore Tutti La minchia Minore Di 3 Minore Di 3 Amore Odoloca Eh sì Perché io sono Educato E leggo Tutti Non è che Faccio Il pazzerello Frizzante Acqua Coca Cola Che ogni tanto Sì Ogni tanto Io 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 Leggo Tutti A parte Cristina Anche Io voglio Rompere La minchia Di Ditto Capo E vabbè Grazie Cristina Sempre nel cuore Autismo Ovunque Ovunque Are you Made Of Gold Titan Sul Furo And Carbon Because You Are Autistic Sto Questi Me L'avevate Messa Un po' Di Tempo Fa Comunque E Fai Fatti Ecco qua Ripost Comunque È Sempre Gold Sempre Gold Sempre Bella Psycho Fatti Grazie Dank Memes Dark Humor Offensive Content Enormis Fuck Enormis Esatto Esattamente Esattamente Ultimo Arasparatore Quattro Generale San Bruno Identificata Come Nasina Grandi 39 Youtube Attivista Vegana Animalista Arrabbiata Perché Avete Smesso Di pagare Per Il video Che Le postate Ah Sì Se vi Ricordate Ieri Mi avete Detto Mentre C'era La Live Uno Di Voi Mi Ha Scritto In Chat Ma Non Ci Abbiamo Fatto Caso Perché Pensavamo Fosse Un troll Almeno Io Non Ci Fatto Caso Per Questo Motivo Qua Che Mentre Io Faccio La Live C'era Una Tizia Che Stava Sparando Della Della Gente Alla Sede Di Youtube E Vabbè Io Subito Ho Pensato A Susan Puttana E Quindi E In Verità Poi Era Una Cosa Vera Una Cosa Più Grossa Di Quella Che Pensassi In Verità Cosa Accaduto Questa Tizia Andata Alla Sede Di Di Punto Youtube A San Bruno In California E Ha Sparato A Dei A Quattro Dipendenti Se non mi Sbaglio Li ha Feriti Ma Si Per Il Motivo A Quanto Pare Di Questo Suo Gesto Era Che A Parte Questo Che È Stato Scritto Qua Ma Era Che Lei Era Convinta Che Youtube Avesse Attivato Un Complotto Perché Lei Faceva Video Sui Vegani Cercava Di Diffondere Il Veganismo Voleva Far Diventare Le Persone Vegane Cercava Di Difondere Questi Video Questa Mentalità E Si Era Convinta Che Youtube Le Faceva Un Complotto Per Cui Non Faceva Andare I Sui Video Nelle Tendenze E Così Ha Spanato Mi Pagano Ammazzo Tutti Pranno Gli Animali Esatto Esatto Grazie Finchè Non Grazie Ma La Stessa Cosa C'è E Non So Oddio L'autobus Oggi È Arrivato In Ritardo Andiamo Alla Sede A Genova Gli Autobus Sono Di Un' Azienda Chiamata AMT Andiamo All'AMT E Spariamo Tutti È Benissimo Ho Comprato In quel Tiramisù In Quei Ristoranti Il Tiramisù Faceva Schifo Basta Spariamo Tutti I Camerieri Di Tutti I Bar È La Stessa Cosa Vuol dire Niente Ora Si Spiega Tutto Lull Allora Furbetto Non Volevo Fare Questo Tipo Di Commento Lo Avete Fatto Io mi dissocio Da questi Stereotipi Sinzioni Aveva tutte le caratteristiche Giuste per farsi Ammazzare Un canale Ovviamente Basato Come al solito Sul Razzismo E battute Offensive Anni avanti Quindi Questo è ciò Che è accaduto Ieri Ragazzi E E Niente Quindi Il treno Non arriva Uccidiamo Tutti Nella stazione Così Nessuno È lo stesso Concetto C'è qualcosa Che non va Uccidiamo Tutti La stessa Cosa Quindi Sì Questa Cosa È veramente Folle Chiaramente Appunto Questa Persona Era Estremamente Instabile Come Ovvio Che sia E Boh Non si Sa Non si Sa Non si Sa Esattamente Il vero Motivo Perché Comunque È morto Non glielo Puoi chiedere Però si Pensa sia Questo Comunque Sì Cruciani Per chi lo conosce Ci andrebbe a nozze Con sta storia Monca e pensa Che noi eravamo In ansia Per quel rincoglio Di Willy Che è in quella zona Hai per lui Comunque Parlando Davvero Io non sapevo Oggi mi è venuta Una bella idea Per un tatuaggio E te ne rendo Partecipe E un bel gamberetto Sul braccio K Che ne pensi No Perché Ce l'ho già in mente Io E non voglio Che uno me lo copio Quindi no Quando tocca Gli minocraft Youtuber No Lulpo Gent No forse Please No Che poi Molti animali Mentre sono vivi Non servono Quindi li ammazziamo E ce li mangiamo Invece le piante Producono ossigeno Quindi abbassano Molti animali Mentre sono vivi Non servono Quindi li ammazziamo E ce li mangiamo Ma che discorso è Invece le piante Producono ossigeno Quindi abbasso I vegani Ma cosa dice Cosa dice Intanto Eh vabbè Salmone Fra l'altro Anche lui È un animale In pericolo Cruciani Io amo Quell'uomo È pazzo Comunque si Salza salmone Cruciani Davvero Comunque Manu Capem Molti Molti animali Sono davvero inutili E dovrebbero essere Uccisi tutti Tipo le zanzare Vegan Animalista E complottista Allo stesso tempo Come ha fatto A sopravvivere Così a lungo Non lo so Non lo so Non lo so Non lo chiedere A me Comunque Grazie per i bits Manu Cioè ci sono degli animali Che effettivamente Dovrebbero Proprio smettere Di esistere Perché fanno Proprio Sono un peso Per tutta La terra Come le zanzare Le mosche Le persone di colore No Allora Comunque Reddit è morto Per qualche minuto Io ho infartato male Anch'io Ma alla fine Ecco il re-upload Del capitolo 3 Ok Sono 9 minuti Lo facciamo alla fine Lo facciamo alla fine Quindi prima di giocare Lo facciamo Tanto ci manca poco Gli scarafaggi Vabbè Gli scarafaggi Ancora ancora Sono utili Gli scarafaggi Ancora ancora Sono utili Perché Buonasera Finalmente Riesco a passare Al volo Per fare un saluto Prima di ritornare A vedere le live Che ho perso Per non spoilerarmi La iton Minore di 3 Finalmente riesco a passare Al volo Per fare un saluto Per rinitare A vedere le live Che ho perso Non spoilerare Ok Curecom Grazie per essere passato Grazie mille Grazie mille Grazie per i 10 bits Grazie mille Un saluto anche a te Grazie mille Sì Gli scarafaggi Gli insetti In verità servono Prendete per esempio Le api sono insetti No? Ecco Senza le api La terra esplode Muore No? Bene Le formiche pure Immagino I ragni pure Perché avete Eh che schifo C'è un ragno in casa Ok Lo uccidi Ma intanto quel ragno Ti mangia le mosche E zanzare Le farfalle Vabbè Però Nel senso Ti serve Però La mosca Cosa serve La zanzara Neanche E No? Quindi Ah Quello io dico Poi se hanno uno scopo Chiedo scusa Però credo che Quei due animali Credo che non servono a niente Ecco Beh non tutte le persone Di colore rompono il cazzo A me basta Che non vi hanno fastidio Ed è ok Oh my fucking god Non prendere Per letteralmente Ciò che ho detto prima Ti prego Grazie per i beats Cioè Non è vero Tutte non servono a niente Allora Sto scherzando Anche gli umani servono Anche gli umani servono Ai per nulla Sì Ai a forse Sì Altrimenti Chi Chi No? Chi è che continua ad uploadare Roba su Mobile Films Se no Chi è? Chi è che mi dà materiale? Quel momento in cui vuoi giocare Ma ci sono bug ovunque È chiaramente strano Che io Trovo bug ovunque Grazie mille Ciao In cognito mode È di force wolf C'ho paura Aspetta Vediamo se c'è un qualche Non sei for work No Sono strimpellamenti Con decibel Che suorano I timpani È meraviglioso Tire potopè Rassismo Fan chiulo A te vergognati Ma basta Tommy Non è vero Non è vero niente Tommy La mia prima ragazza Era di colore Infatti la usavo No Allora Ti prenderebbe gli occhiali in legno Che po' Ado Esatto Esatto È come FBI Più che il ragno La scutigera è utile in casa Il problema è che quando la vedi Incendi tutta la casa lo stesso La scutigera Cos'è la scutigera? Cos'è? Cos'è la scutigera? Senza le zanzare I pipistrelli Non avrebbero niente Da mangiare Così facendo Si estinguerebbero E non produrrebbero Più guano Che è una materia Prima per i cosmetici Le donne Andrebbero così In giro Struccate E la razza umana Smetterebbe di riprodursi Taz logic Ebbè Ebbè Certamente Certamente Grazie Ricchio Però è vero È vero Però in effetti sì I pipistrelli Non le potrebbero più Mangiare Però potrebbero mangiare altro Però sì In effetti Un minimo di utilità Guarda che ha scritto Oh my fucking god È autistico Hyperlul Ma sì Un attimo Un attimo Ah non era Tommy Allora mi si era sbambal Ti riporto Pensa sì No my fucking god Ripeto Era di colore Era tutta Così Altrimenti chi venderebbe Io Io che era in legno Infatti Grazie my fucking god Grazie Tommy Più che ragno La scutigela Non so che cosa sia Tony F Ora Ora la Andiamo a cercare Scusa Scusa per andare via Chiocciola Rikki Sottolinea Quanto Noi scherziamo Ma altro che donne Struccate Non ci sarebbero I rossetti Per D2K Cosa Aspetta Aspetta che mi sono perso Io tanto uso Solo quelli della Kiko Prima Sara La chiami Cristina E poi ci sono io Che mi chiamo Tommy Ah che schifo No ma la scutigela Fa schifissimo Ma fa schifissimo Sta cosa Non guardare La scutigela Porco il cazzo Do fuoco Ma fa schifissimo La scutigela È una di quelle cose Che schiacci Perché fa proprio schifo La scutigela È utile in casa Ma cosa è utile A trovarla A ucciderla Subito Per essere zanzari Questo lavoretto Guarda che scritto Si è controllato Altro che donne stucate Non ci sarebbero I rossetti per rire Infatti Infatti Quelli della Kiko Infatti Quelli della Kiko Come cazzo farei Usa L'esatto Qrecombe Prima Sara Chiami Cristina E poi ci sono io Che chiami Tommy Allora Siete tutti Un No Eh Un po' Quindi Finchè che non Non guardare la scutigela Invece lo guardate Fa schifo Grazie a me Focchincode Grazie a Finchè Comunque Sta cosa è bellissima Sta cosa è bellissima FI open up È bellissimo Quando non c'è bisogno Di taggarlo Perché il re Perché il re Edz Noti E capisca K Susan Puttana Cheat Ma Lisa Ma impara a parlare giusto Pari nel qualche giorno YouTube in California Ad apri il fuoco Una donna È morta Joe odi così tanto Scusate si che ci ho messo La Ha 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 Reaction E vabbè No Edz Ma cosa Ma cosa Le clip incredibili Grazie Saldier Le clip incredibili Grazie Saldier Come si fa a vivere Senza segni di rossetto Nel cazzo Felsbadman Esatto Esatto Fulso Esatto Come fai a stare senza Vedi Proprio No Vedi il segno E ripensi A mentre accadeva E dici Eh vedi lì dove c'è il segno Prima c'era Una bocca Che no Che usava La incredibile La tattica No Twisting Quindi Allora Guardiamo gli altri Questo mi sa che Si è stato già caricato Ce ne sono due uguali Ok Fosswolf Non trollare il sistema Bettendone due uguali Cos'accade Cosa accade Cosa accade Cioè adesso anche Anche a scuola Quando non va qualcosa Spammate F Come quando Come Nelle mie live per chi non lo sapesse dico questa cosa è arrivato aiuto no dico questa cosa per chi è nuovo quando faccio le live IRL quindi quando faccio le live per strada la chat ha il compito durante la live se il segnale a un certo punto incomincia ad andare male di spammare F in chat perché è una cosa che abbiamo preso da ICE nella sua chat si spamma F quando non va quindi è una cosa che mi è venuto spontaneo fare quindi il fatto che lo usiate anche voi nel gruppo della scuola è bellissimo è una cosa bellissima è fantastica comunque ok ho visto che c'è stato uno spam F incredibile in chat e andiamo avanti super 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 gay I love long big cocks now once again I am gay 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 I love long big cocks la conoscevo però però si la conoscevo dd o munca s ah una lampada è dei desideri posso finalmente solo dirmi il mio desiderio dimmi ragazzi cosa hai di incontrare di ah grazie stavite fra l'altro lo desideri con tutto lo smag ma che dolce grazie mille grazie sapete una cosa dolce prima o poi lo faremo un raduno un romix o qualcosa appena finisce sta cazzo di università di merda che non ne posso veramente più infatti ho anche dubbi sul fare la magistrale perché non ne posso davvero più vedremo vedremo perché io li voglio li voglio fare questi raduni queste cose qua io sono l'uomo del monte e risponderò a queste domande tu mi porga esistono inti di merda su steam gratis esatto sapete è una domanda cui nessuno sa rispondere perché cosa hai schifato eh perché sto cazzone di merda grazie mille per aver per avermi fatto sapere master lupo non ci ho fatto caso si vede che ma che cazzata non è colpa mia è sempre stato 22 10 quando si vede che quando è scattata l'ora legale è stato messo un'ora in avanti e quindi ha sfanculizzato l'orario grazie mille master lupo ovviamente è sbagliato ed è dovuto all'ora legale che cazzata ddo monca esse che bello quel ddo nelle pupille grazie ma non c'è ddo monca esse il grande inno il grande inno e ora e ora oh mio dio cos'è ah no c'è c'era una qua l'autorazione è quando batti luca del futuro quindi è questo potere dell'ultraistinto cos'è cos'è schippato eh niente non ho schippato niente non ho schippato niente no no tranquilli tranquilli eh volevo dire ah ok il titolo era I'm a minecraft youtuber il momento il momento è giunto no ragazzi cringe non ce la faccio non ce la faccio mamma mia che brutto periodo che brutto periodo della mia vita è arrivato il momento più o meno sempre però in particolare questo che brutto periodo della mia vita cioè davvero adesso già fanculo questo è casa mia ok sto uccidendo a pugni non è una buona idea vero so benissimo che non hanno partecipanti attivi per cominciare allora intanto qua devo anche poi murmurarlo la cosa perché mamma mia basta ragazzi basta basta allora no ragazzi io lo dico chiaro e tondo io lo dico chiaro che è chiaro e tondo ragazzi attenzione al trick attenzione uno due e tre attenzione però questa cade guarda che bello hai visto quindi ora vi faccio anche il veliero con quattro carte per farmi perdonare ecco qua e hanno quattro le carte ecco qua quindi ah sì è arrivato ok quindi ragazzi è stato un periodo brutto del canale e della mia vita ma in particolare del canale ho avuto tanti periodi brutti nella vita ma mai così brutti del canale quello è stato il periodo peggiore del canale ignorate quelle cose è arrivato il momento di Minecraft ragaffi abbassa quella voce da gallina abbassa quella voce da gallina e ti rinchiudo nell'ammadio no ragazzi dimenticate e ignorate quella merda il discorso è ti ricordi quella bellissima live in cui ti sfolluavamo no te lo ricordi no ho pianto dal ridere ti prego è stata una live bellissima dei tempi perché abbiamo riso come degli idioti ma è come per shelter no shelter pittipa pittipa pepe pittipa e le bambine si bagnano per dobearmi ne crani lo so lo so ma era per attirare le bimbe è solo per quello chiaramente forse è ovvio che era solo per quello dmo dm official voglio farmi un tatuaggio voglio chiederti se l'ufficial il ddo sono tre anni che sto pensando di farmi un tatuaggio a tema diddo anche perché sono sei anni che ti seguo ti voglio bene così sei troppo grande didmeme official oh mio dio oh mio dio no allora già un tatuaggio del genere se lo deve se lo fa se lo vuole fare anche bizza quel pazzo furioso quindi siete in due e credo che un ragazzo se lo sia fatto in passato da qualche parte ho ancora le foto quindi sei il terzo voi siete pazzi voi siete pazzi didmeme official poi dimmi il tuo nome così ti posso parlare a nome non farti ddo perché quella è una sigla che potrebbe sempre cambiare una cosa che non abbiamo ancora cioè per ora è una sigla che voglio usare e voglio un po' marciarci sopra però in verità il logo nostro è la d e basta che sia la d rovesciata o che sia la d come vedete ora quella con il quella questa qua che vedete in alto qua quella con il pallino e sono entrambi ufficiali 4 il tuo simbolo è troppo bello 4 il tuo simbolo è troppo bello non ho capito 4 il tuo simbolo è troppo bello non ho capito Ricky scusami quindi d di o monca s è più che altro qualcosa per se un giorno vogliamo fare ride mentre la d più che altro non quella con il pallino che è il logo di twitch ma la d in teoria rovesciata quello dovrebbe essere il logo ufficiale ok quindi se proprio vuoi un logo ufficiale se è interessato a un logo ufficiale è la d rovesciata la d rovesciata è una cosa che pensavo io di farla piccolina da qualche parte minore di 3 dentro al gamberetto magari ai per lull no ragazzi siete fanta ragazzi anche te Sara per una volta quasi ti voglio bene grazie Sara grazie sono il quinto ed 4 ah oddio ma no si va bene sono il quinto ed non ci credo no 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 troppo siamo in 4 voglio fare il tatuaggio il tuo logo è troppo bello grazie Ricky no vabbè grazie ragazzi no siamo in 4 voglio fare il tatuaggio allora il tuo logo è troppo bello allora grazie a tutti grazie grazie forse grazie Ricky grazie Sara grazie appunto DMO appunto poi dimmi il tuo nome così ti posso chiamare con il tuo nome reale se vuoi grazie so cosa voglia dire per voi perché comunque appunto ne sono reduci anche io chiaramente ne sono reduci anche io quindi so che cosa voglia dire essere talmente tanto affezionati barra cambiati barra come nel mio caso salvati quasi da una persona da volerla imprimere sotto pelle mi unisco alla schiera di persone che mi hanno forse qualcosa a tema ditto no vabbè io piango no cioè vabbè io piango ragazzi io piango questa serata si piange mi sa che questa serata io io piango io io questa serata piango cioè ma questa serata si piange aspetta aspetta Sara che è un discorso serio scusami ragazzi grazie a tutti ragazzi allora se cercate allora vi dico solo due cose la prima è meno importante ovvero se cercate davvero un nome un cosa ufficiale è la D rovesciata a parte quello se seconda cosa ben più importante pensateci molto bene comunque ragazzi ok io prima di fare il CX ci ho pensato molto bene non me ne pento anche se ora cioè perché comunque l'ho pensata molto anche se ora non dovesse mai più seguirlo mi dovesse fare schifo Ice non me ne fregherebbe niente perché comunque mi ha cambiato tanto e mi ha fatto diventare una persona migliore in passato quindi gli devo tanto comunque al di là di quello che farà in futuro non me ne frega niente quindi io ci ho pensato molto e sono fiero e felice della mia scelta quindi ragazzi la cosa più importante che vi dico è pensateci bene pensateci bene perché comunque è una cosa molto grossa è inutile starvi a dire eh gne 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 ma il tatuaggio guarda che è una cosa per sempre domani tutti insieme dal miglior tatuatore di Genova come se fossi vostro nonno che vi mena le balle con questa storia lo sapete tutti che è una cosa che poi non è vero neanche che è per sempre perché si può cancellare in teoria sta male perché rimane il segno costa fa malissimo però in teoria in teoria si può cancellare però vabbè voi ponderatela come una cosa per sempre ok quindi pensateci molto bene pensateci molto bene è una cosa comunque molto impegnativa da avere quindi occhio al posto in cui lo fate ti taglio sul pene così da averti in mente in ogni momento furbetto di sì è una cosa romanticissima grazie furbetto è bellissimo grazie quindi pensateci molto bene ragazzi pensateci molto bene anche al posto oltre se farlo pensate molto bene anche al posto al posto dove farlo un conto è il braccio e lo vedete spesso un conto è il piede e si vede molto meno spesso potreste stancarvene tra virgolette di meno quindi pensateci bene in generale ragazzi si va da Sparviero a farsi tatuare la di rovesciata in legno Hits Club ma sarebbe bellissimo forse ma sarebbe bellissimo quindi è il presidente il tatuaggio di M con scritto Proof e io avevo pensato di farne uno con scritto Dido ma Mike sei pazzo davvero pazzo in senso buono nel senso che è una cosa gigante è una cosa incredibile per me quindi Mike grazie yes niz stavo pensando di farmelo anch'io tra qualche anno non so se quale c'è il peccetto ma ci penso di più esatto pensateci davvero tanto comunque DMO sono io mi chiamo anche io Ivan ah ma sei Cipa fotonica ok ok allora no perché come Cipa fotonica ti conosco perché è così che ti conosco su Twitch dopo di doping di do solpene esatto 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 my fucking god esatto quindi Cipa Ivan grazie a tutti ragazzi siete davvero in sette tipo a parlare di questa cosa per me è una cosa gigantesca ovviamente cioè è una cosa è una cosa che mi commuove sto cercando di non commuovermi per non farla checca però a parte davvero è una cosa che mi commuove è una cosa che mi colpisce è una cosa che mi fa rimanere davvero a bocca aperta e comunque io che mi io che non ho tutta questa autostima sono riuscito a colpire delle persone talmente tanto da volerle far da voler far sì che loro vogliono fare un tatuaggio su di me è una cosa impensabile è qualcosa di incredibile voi non è non riuscirò mai a spiegarvi cosa cazzo significhi questa cosa per me e Patatino ti parlo da Sara Giolli in questo momento tu non sa tu sai quanto hai fatto per me da quando ti seguo oggi davvero fidati lo farei piccolino proprio perché non si sa mai e io so che tu restai una parte fondamentale di me un ricordo per la me del futuro piango che magari interromperà la strada intrapresa con voi chissà e questo mi servirà a ricordare chi ero chi eri chi eravamo tutti no 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 Cristina questa cosa è devastata non mi puoi scrivere questa cosa questo mi servirà a ricordare chi ero chi eri e chi eravamo tutti quella frase mi ha distrutto guarda come si commuove per i tatuaggi dito sul pene è solamente per quello è solamente per quello oh my fucking god fra l'altro anche te dici sempre fai cose eccetera anche te dammi il tuo nome anche te che molti di voi vi vorrei ringraziare per nome per tutti quelli che vogliono farsi un tatuaggio per entrare nella diddogang è necessario avere sulla schiena un montas con gli occhiali in legno capa ridiamo un po' o ci viene la depressione di ma non è ma no no depressione per niente anzi se mi commuovo se mi commuovo è proprio perché sono commosso perché fate edite delle cose stupende altro che depressione sono proprio commosso Luca triunfo grazie per la prima metà del messaggio per la seconda la mia faccia tatuata sul tuo piede secondo me è strano sai quante views e quanti soldi tutte le carte per terra quindi bastardino bello piangi bastardo capo Cristina è qui a consolarti mentre Sara ti devasta va bene va bene il mio nome fa cagare mai va bene no 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 era una cosa no no non siete obbligati ovviamente si chiama privacy tranquilla tranquilla era per dire però puoi dirlo anche una volta sola tranquillo il mio nome fa cagare mai puoi anche dirlo solo una volta non ti preoccupare quindi ragazzi ripeto allora il logo ufficiale si è la di rovesciata quello è e non ho intenzione di cambiarlo quello è e rimane che sia bello che sia brutto che piaccia o non piaccia è una cosa perché è semplice funzionale veloce non è chissà quanto incasinato due volte cosa perché è arrivata due volte vedi no pum il mio nome è no pum bla 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 è perché è arrivata due volte per quello quindi molto probabilmente farò come hai fatto te prima farò un tatuaggio riguardante il mio artista preferito Don Diablo e poi forse uno riguardante te sei diventato una parte importante della della mia vita Yesnitz anche te grazie io davvero ragazzi non so che cosa dire a parte milioni di grazie milioni di volte cioè è una cosa folle è una cosa il mio nome si può intuire dal nickname ovviamente mi chiamo Elviro Ricky nel tuo caso è abbastanza chiaro tranquillo tranquillo cioè chi si chiama Davide si capisce subito però a parte quello ragazzi davvero grazie a tutti ripeto uno il logo è là di al contrario due pensateci molto bene prima e tre grazie con tutto il cuore sono arrivato ora vedo Diddo piangere per la commozione non conosco il contesto ma una cosa è certa ti vogliamo bene qualsiasi cosa succeda minore di tre minore di tre minore di tre oddio oddio merlina io voglio bene a voi qualunque cosa accada e il fatto per cui sono commosso è perché tantissime persone hanno esposto la loro idea poi se avverrà davvero o no è un'altra cosa però intanto il fatto che esista come idea è una cosa gigante hanno esposto la loro idea di farsi un tatuaggio a tema me cioè farsi la farà farsi la di di Diddo ed è una cosa enorme ma come Davide è ovvio che il nome di chiocciola ricchi sottolineatura Nicodemo è un nome incredibile però quindi è qualcosa di incredibile questa cosa ora non posso purtroppo stare ancora qui a parlarne a stare a fare ringraziamenti perché so che poi vi scazza perché dobbiamo andare avanti dobbiamo giocare eccetera eccetera ma sono cose enormi sono cose gigantesche io davvero ragazzi vi dico solo che grazie un'ultima volta perché purtroppo devo andare avanti con recap e poi giocare ma grazie davvero un'ultima volta un grazie di quelli giganteschi che escono dal cuore se vuoi se vuoi imitato il tuo cazzo in fronte la dico si starà peraltro in caso litighiamo capapride beh si può fare si può fare si può fare il cazzo in fronte si può fare si può fare perché comunque però sai com'è dovresti farla girare per tutta la faccia se no non ci sta oh allora oppure fai un pene anche piccolo e sottoscrivi in scala 19 centimetri ok basta allora ho tirato le carte ragazzi questo significa che bisogna mettere mano alle tette quindi grazie a tutti ragazzi ancora un'ultima volta sono sempre stato contrario ai tatuaggi ma con questa proposta un pensierino lo farei Merlino grazie davvero come al solito io lo ripeto pensateci non una non due neanche sei miliardi di volte ma mille miliardi di volte pensateci bene perché è una cosa seria di cui potete pentirvi come no però potete anche pentirvene quindi stateci attenti e pensateci molto molto bene e quindi anch'io il prossimo che farò sarà facciamo così facciamo così facciamo così il prossimo che farò perché comunque i tatuaggi dicono non vanno mai in numero pari ora ne ho due quindi devo fare il terzo e quindi pensavo di fare qua di fare qua il terzo quindi almeno ho riempito il braccio destro ne ho uno sotto uno sopra e uno sul 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 bicipite che non ho però è dove dovrebbe esserci il bicipite se non fossi un manico di scopa ecco io ho mitato una ragazza con una quinta con la di rovesciata no mother simulator e you now ads no mother simulator e later oggi grazie comunque quindi il prossimo che farò appunto che voglio fare qua sarà appunto qualcosa legato al canale e voglio farmi anch'io la di rovesciata quindi se siete davvero interessati a fare questa cosa allora potete un attimo aspettare che me la faccia io e poi almeno ve la potete fare se vi piace di carlos parviero ma quella me la faccio gigante sulla sulla schiena tipo yakuza chiaramente quindi salute grazie mille smr grazie gasp salute che puoi eh grazie tommy quindi me la farò io la di qua quindi chi è davvero interessato se vuole può aspettare che me la faccia io e se gli piace se la può fare uguale così sarà una cosa più più distintiva più del canale diciamo e stavo anche pensando quello su una chiappa stavo anche pensando se è possibile se prende volevo farlo irle ok è una idea che mi era venuta al volo volevo farlo irle attenti però a tatuarvi la sporcissia no no quello no merlino tranquillo quindi volevo farlo irle in live ok quindi se riesco quindi il prossimo cioè se riesco riuscirci ci riesco non ci vuole niente non ci vuole niente quello che mi spaventa è il segnale cioè ho paura che dentro il locale del tizio non prenda tutto qua quello che mi spaventa è quello però se prende il prossimo è una D ed è live se ti pago se ti pago per tatuarti il mio nome l'UK no forse no ecco i tatuaggi devono essere cose importanti quindi forse farmi il nome perché mi hai pagato non ha senso io per ora non posso fare tatuaggi almeno fino a settembre sto facendo una cura per la pelle abbastanza pesante e il dermatologo ha detto che non posso fino a dopo l'estate c minore di 3 quindi fallo entro quest'anno ma se lo faccio lo voglio fare o prima o quest'estate quindi entro quest'estate sì perché il quarto tatuaggio che fai non è una Z vicino alla E è vero è vero se mi stanco della E posso aggiungere una Z e farmi uno EZ gigante giusto 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 quindi ragazzi quindi prossimo mio sarà la D rovesciata sarà sperando che prenda sarà in live year ok ragazzi quindi state pronti lo voglio fare appunto entro l'estate quindi o prima o durante l'estate ma non dopo non ho voglia di farlo dopo tanto al mare io non ci vado mai non me ne frega niente quindi me lo posso anche fare in estate le persone con molti tatuaggi si possono considerare dei pluridecorati ma ho una domanda le persone con molti tatuaggi si possono considerare dei pluridecorati chiaramente sì merlino chiaramente sì quindi ragazzi grazie a tutti quelli che hanno vizzato e grazie a tutti quelli soprattutto che hanno parlato appunto di farsi la D ripeto pensateci bene ma a parte tutto grazie di cuore ora giuro ultima volta che lo dico poi andiamo avanti ma di cuore dal profondo del cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie siete fantastici grazie tutto qua ora andiamo quindi quindi ci mancano questi e mi avete chiesto di aggiornare qui ragazzi smetto di parlarne per il eh quanti ah no no ok sono questi smetto di parlarne per il semplice fatto che dobbiamo andare avanti però davvero vi ringrazierai all'infinito allora cl4p tp in realtà sono sempre io ah non sape mai che nome scelto prima di seguiti qui su reddit ecco perché non si chiama Jimboy e grazie per aver salvato la meme la meme la salvo le salvo sempre le meme comunque claptrap grazie a te Mike per aver scelto un nome così figo dico scusa ma il ragno che dovevi comprare non posso perché c'è il cane c'è il cane c'è il gatto ci sono troppi animali per casa i miei mi hanno completamente proibito di prendere il ragno lo vorrei fare Kaiju fossi in casa mia da solo solo io mi prendo il ragno ma non posso perché ci sono già troppe bestie che girano per casa ho usato il modo per far bannare Dido mi metto un cazzo con l'immagine profilo di Twitch divento bitsboss ban this fuck no manokm ragazzi ragazzi vi banno tutti ragazzi vi banno tutti Dido passione Layton make up questi sono i giochi del DS belli questi sono i giochi del DS belli e Zelea bellissima grazie questa roba ma che cosa ma cosa ma cosa vedo ok Tom mi sto ma perché io donna sto lasciando la casa e arrivo tra poco ok ciao apre Chrome scuse per scappare non mi ricordo quando ho cercato in quell'occasione non prendetemi per il fondello Dido lo ammette I am gay 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 I love long big cocks Dido lo ammette hyperlull guardale le clip che cercano di incastrarmi guardale guardale le clip guardale come sono pronto oddio che bello una fan art ispirata a racconti lodo loca e si che è chiaramente ispirata a Ib ispirata a Gary infatti ispirata a Gary di Ib ho modificato su di te no no Franci si era capito perché è fatto da Dio aspetta che la salvo ok Franci grazie mille ma è bellissimo ma è bellissimo ma che bello è è davvero in stile Ib è in stile Ib perfetto mi piace un sacco mi piace un sacco hai anche colto il fatto che i miei occhi sono marrone molto chiaro complimenti hai colto il fatto la salvai per lull ma si è bellissima Franci grazie mille grazie grazie mille Franci è bellissima è bellissimo Franci grazie di cuore mi tatuo di Dio qui no e ho raggiunto la quota di 10.000 bits volevo solo ringraziarti per quello che fai adesso champagne e puttane per tutti pojemp ingiustamente forse ingiustamente grazie per i 50 bits che sono tanti per i 10.000 soprattutto grazie forse ma chi ha fatto quel disegno che carino odio minore di 3 minore di 3 eh si è stata è stata Franci è stata la Francesca grazie Lodo grazie Franci ancora forse grazie per i 50 bits e per i 10.000 sono tanti si champagne puttane anche per te comunque grazie mille Harry no il vero mago ebbè con tutti i trick che vi ho fatto oggi Ditto no Ditto dopo che Lodo Loka parla di gang così mi immagino Ditto quando la family avrà la ditta tatuata la gang più autistica del mondo Lisa no no non per culare Lisa ora vediamo questo video qua questo racconto ma se ti volessi inviare un qualcosa si può e se si può come posso fare ciccio se parli di una cosa fisica attualmente non si può nel senso che non ho una casella postale dove far mandare i pacchi se volessi mandare qualcosa di fisico attualmente se vuoi mandare un'email o parlarmi in privato scrivimi su Instagram che lì tanto leggo praticamente sempre tranne negli ultimi giorni ma è perché sono costantemente su sta merda di libro di merda maledetta università non ce la faccio più quindi e quindi e quindi per i pacchi capa pride ancora non si può quindi se attiverò una casella riposta per i pacchi ve lo faccio sapere per ora non si può al massimo ti darei l'indirizzo non so di mia zia che fra l'altro abita a Cornigliano fra l'altro quindi in mezzo alla sporsissia e te lo farei mandare a casa sua e poi io andrei a prenderlo lì così da non licare le cose mie al massimo intanto non credo ve ne facciate molto dell'indirizzo di mia zia però vabbè appunto si vede comunque per ora pacchi fisici no non ho nessun modo per farli arrivare finalmente cregasmo ok vediamo com'è non c'è non c'è non c'è l'ansia Fece ben intendere loro che qualcosa stava accadendo E non qualcosa di bello Giardi vagò per un momento nella sua memoria Per cercare di ricordare all'interno di quale bambola si trovasse la chiave Ma quella parte del suo subconscio sembrava... Corrotta Come un gioco che si glitcha per un po' Prima di crashare Dobbiamo trovare la chiave Si bilò con un filo di voce gherri Stringendo i pugni per cercare di bloccare il tremore delle mani L'altro lo guardò con la coda dell'occhio Pallido, sudato, con gli occhi sbarrati E si pentì terribilmente di aver pensato anche solo per un istante Che fosse un codardo Perché ora Giardi era terrorizzato a sua volta Senza dire una parola Ormai rassegnato al fatto di non riuscire a ricordare in che bambola fosse la chiave Si voltò a discatto e si chinò sulla prima che gli capitò a tiro Mentre il secondo rintocco, seguito dal rumore di stoffa, riempiva la stanza Fesso arrivano le immagini ad un certo punto Ah, e non lo sapevo loro Giardi ordinò a gherri, mentre ne apriva una seconda Fai in fretta o stiamo morti! Non riuscì a vedere cosa fece il ragazzo Impegnato come era ad aprire bambole Ma il rumore di altra stoffa strappata Gli fece capire di non essere più solo in quell'impresa Poi ci fu un altro rintocco E Giardi si azzardò a guardare Una mano blu, raggrinzita Con le unghie spezzate e sporche di una sostanza nera e vischiosa Si era appena aggrappata al bordo della cornice Qualsiasi cosa fosse, voleva uscire E non ci sarebbe voluto molto, prima che lo facesse Giardi continuò a smembrare bambole su bambole Con gocce di sudore gelido che gli correvano lungo la schiena Sotto la maglietta facendolo rabbrividire Il quarto rintocco sembra più basso dei precedenti Giardi sentì il suo compagno che cacciava un mezzo grido E quando si girò per vedere a cosa fosse dovuto Sussultò vedendo il viso di quella... Bambola Sembrava un vero e proprio giocattolo vecchio Una di quelle piccole bamboline In gigantità in maniera esponenziale Gli occhi rossi brillavano come fanali La bocca dentellata sembrava essere stata cucita Ma adesso i fili tiravano lentamente E lentamente si stavano spezzando Lasciando aprire quelle fauci Dentro alle quali sembrava esserci il nero più assoluto Il nulla dopo la morte Il ragazzo cercò di mantenere la calma Mentre si rimetteva al lavoro E il quinto rintocco riempì la stanza Sempre più basso Mentre la luce continuava a calare Era sicuro che quel mostro dentro il quadro Avesse spinto una delle sue dita martoriate verso di lui Sì! La chiave! Gary tirò fuori dallo stomaco di una delle bambole Una piccola chiave Giordino si dè nemmeno il tempo di concedersi un sospiro di sollievo Afferò l'oggetto Prese l'altro ragazzo per un braccio E più veloce di quanto non si credesse capace Apri la porta Ed insieme uscirono dalla stanza Richiudendosela alle spalle A doppia mandata I due ragazzi si guardarono per qualche istante Entrambi col cuore al mille e il volto pallido Poi si concessero di respirare Io Ne ho avuto abbastanza Di quella stanza Anzi Monguerri Passandosi un braccio sulla fronte sudata Perché abbiamo Abbiamo dovuto Avere a che fare con qualcosa di simile Giordino rispose Il fiatone gli aveva mozzato le parole in gola Gli venne da pensare come prendeva scherzosamente in giro Gary Per i suoi Pant Gas Allora non poteva capire Però Pensandoci Riprese l'altro tra stesse Ibb potrebbe essere In una situazione altrettanto terrificante Improvvisamente Si risollevò E raddrizzò la schiena Dando l'impressione di essere ancora più alto Dobbiamo ritrovarci presto Però io prima salvo E poi Gary perché ti odio Ti faccio rientrare in quella stanza Probabilmente Se avesse potuto parlare al se stesso del passato Giordi gli avrebbe tirato una testata sulle gengive Finalmente Anche lui riuscì a recuperare il fiato E voltando la testa Indicò una porta giusto al fianco del ragazzo La La porta Osservò con il respiro ancora mozzo Eh? La porta è aperta! Osservò l'altro Mentre lentamente ci si avvicinava Al di là di essa Era cerata una lunga scalinata Sul muro giusto accanto C'era appeso un quadro con Sembra il demole di Aoni Che si mangia una pera Quasi gli venne da sorridere Al ricordo Giordi si espremente le meningi Cercando di ricordare Dove quelle scale portassero Ma oltre quel punto della sua memoria C'era un vuoto totale Scale Osservò Gary Sono arrivato fin qui Ma ora mi chiedo se dovrei continuare Ma non so Quanto possa essere buono Provare a tornare indietro Dobbiamo andare Gary Si intromise l'altro Al diavolo Continuiamo a muoverci Non vedo altra soluzione Ora Non restava altro da fare Se non salire E fu un urlo Acuto e terrorizzato Che gli spronò a fare in fretta Abe! Urlò Gary Mentre si fiondava su Seguito a ruota da George Tuttavia Il primo era troppo veloce Tanto che quando l'altro arrivò di sopra Mary era già a terra La piccozza da pittore A poche spanne dalla sua mano E la piccola Abe Stava già abbracciando Gary Scusa Deve essere stato spaventoso Ma è tutto finito adesso Disse piano il ragazzo Mentre le accarezzava la testa La bambina Tirò su col naso E lentamente Voltò la testa Verso il nuovo venuto Geordi Si sentì estremamente a disagio Con quei due giganteschi Occhi Rossi Che lo fissavano inquieti Gary Chi è questo signore? Chiese genuinamente Mentre si stringeva il suo protettore Lui mi ha aiutato Abe È buono Sentenzio l'altro Mentre lo guardava E ora È in fuoca con noi Dobbiamo sbrigarci Prima che Mary Non termino la frase Abe Cominciò a tremare Le manine strette Sul cappotto di Gary Gli occhi sbarrati Che sembravano diventare Sempre più vetri Cominciò a balbettare E qualcosa si mosse Nella sua figura Come Un pixel fuori posto Un glitch Cosa? Jordi Non ebbe modo di commentare In nessun modo Improvvisamente Sentì la terra Che gli mancava sotto i piedi Riuscì soltanto A vedere la piccola Abe Che Ancora tremando Collastava in un cumulo Di pixel senza forma E Gary Che impallidiva completamente Con gli occhi sbarrati Prima di venire inghiottito Dall'oscurità più totale E Paura Mamma mia Ma quanto bello Non è Non è Chi non muore Si rivede E buonasera ragazzi E buonasera Ditto Pasquale Scusatela Senza A minore di 3 Minore di 3 Minore di 3 Ma sta fan art Della 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 Madonna It's per la voce Poggem Per la storia Ma sta voce Sta fan art Incredibile Ma Ma porca troia Ma che bello Ma che bello è Ma che bello è Trove giuro Vicino Ci sono rimasto Porca troia Ma è tipo È bellissimo È un capolavoro Ma c'è Bello è che ci sono tutti Tutti Ah io Sono fatto da No ma che bello è Ma che bello è Io sono fatto da Dio C'è Alice C'è Fran Baucom Mister Mezzanotte C'è Jennifer C'è Cioè scusate Alice Scusate Sta qua è Alice Sta qua Credo sia Tipo di Madfather Lei Credo sia Dovrebbe essere di Madfather È possibile che anche io stesso Li sbaglio perché Abbiamo giocato un botto Di roba Sta qui appunto Alice Questa dovrebbe essere A me sembra Cell Non sto riconoscendo Lei E lei che scrive Non sto Non sto riconoscendo Lo Lo Lei che scrive Dio santo Ma è bellissimo Jennifer È meravigliosa Fra l'altro Jennifer è meravigliosa E poi c'è Intanto dietro Questa figura No Minacciosa Che Mamma mia Ah è la cantastorie Direttamente Ah ok Non sa mai nulla Allora è difficile Ah ok Appunto Ok 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 Una è ebel E l'altra E l'altra la cantastorie Ok ok Sommerso dalla figa Questo disegno È qualcosa di incredibile Devo fare in modo Di averlo Aspetta Dato che se faccio Lo screen Mettendolo a schermo intero È un conto Se mi passi Il file È un altro Potresti mettere Su reddita Anche proprio Solo che il disegno È qualcosa di meraviglioso So che è di Andrea Giusto Dovrebbe essere Di Andrea Appunto È qualcosa di Incredibile È qualcosa di Incredibile Aspetta State State taggando Jupiters Mi vergogno È tuo Jupiters Sei tu Andrea Jupiters Chi sei? Jupiters Palesati Andrea Palesati Chi sei? Fesso certo Che lo metto Il disegno Ora leggi La fine Storia e voce O di Videocatelli Covered by Andrea Zannoni Grazie per l'attenzione A venerdì Con uno spoiler De nuovo capitolo Attenzione C'è C'è lo spoiler Ti prego Ti prego Ti prego Lodo So che è un'opera tua Eh sì Chiocciola Jupiters Blu De Andrea Eh infatti Infatti Allora So che sei tu La autrice Io non devo In teoria entrare Non posso scegliere Però ti prego Lodo Mettici anche Roll of Rose Ti prego Mettici Roll of Rose Ti prego Sono troppo curioso Di vedere Come ci Se vuoi Se ce la fai Sono curioso Davvero Di vedere Come ci metteresti Roll of Rose Comunque Allora Andiamo con noi Lodo Uno Scrivi da Dio Scrivi veramente Sempre da Dio Due Parli anche Parli Dopi Reciti Dite come volete Veramente bene Complimenti 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 Davvero Bravissima Brava 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 Lodo Dieci Lode Complimenti Complimenti Davvero Brava Hai dato un sacco di pathos Di interazione Di emozione E la parte finale Metteva veramente La seconda metà Il quarto finale Metteva veramente Ansia Quindi complimenti Lodo Bravissima E poi Jupiter's Blood Giusto Jupiter's Blood Esatto Sulla copertina Sulla copertina Ci sono tutti i giochi Che per adesso Ho preso in considerazione Sono Stei app C'è pure Frambau e Portal Sì Ci sono pure Frambau e Portal Grazie Ok Grazie Lodo Posto Posto Sto happy Sto happy Lodo Lodo Ti sto guardando Con un amico Che ti segue Da tanto Anche lui Potresti salutare Tommy Grazie mille Mattia per i bits Un saluto da te Un saluto anche a Tommy Ciao Tommy Che mi segui Dato che mi segui Da tanto Grazie mille Ciao Tommy Grazie mille Andrea Grazie Andrea Ah ma voi state vedendo Tutto Tutto Monchessato Andrea Davvero Hai scritto Uffa Hai scritto Non so più parlare Perché Quelle Quelle disegno Mi ha sveraginato Due secondi Lo carico Sì sì Ok ok Quelle Disegno Mi ha Veramente Colpito Proprio così Pa 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 Nelle palle Fino a farmi inginocchiare E dire Oddio ma Disegno Sei bellissimo Perché lui voleva Ricevere i complimenti Da me Io non gliene facevo abbastanza Allora io mi inginocchio Dolorante Per i calci nelle palle Ma sei bellissimo Sì sono bellissimo Ma sei il disegno più bello Sì sono il disegno più bello Ma sei anche la cover Sì sono la cover Ma sei bellissimo Sì sono bellissimo Capito È bellissimo È bellissimo davvero Ciao anche a te Tommy Ciao che puado È va bene Sì Tommy Non parlavo con te Tommy Mi sa Quindi Cosa sento Mucameca Quindi Veramente È follia Quel disegno è bellissimo Andrea Grazie 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 Lodo Grazie Andrea Siete pazzi Ho la sensazione di essermi perso qualcosa È ci vero Andrea Lodo ha fatto una recitazione da Dio Nel nuovo capitolo di Virus Dio di Dio Virus E Andrea ha fatto una cover Cioè un disegno Che è qualcosa di incredibile È bellissimo Grazie a tutti i nostri amici